L'episodio di Life is Strange L'episodio di vita L'episodio di vita E' un po' di miei pezzi E' un po' di miei pezzi E' un po' di miei pezzi Ah bella, non avevo la tua pezzi Hai capito di controllo di pezzi? Sì, c'è un po' di grattaccio? Hai sempre accelgato di nuovo? Oh sì, pezzi, pezzi, te c'erano E' molto bello di te rispiti Domi la verità E' un ordine Chi è? Cosa è? Stopi di trattare me e mia mamma come la tua famiglia! Hey! Lascia Joyce fuori da questo! Io vorrei lasciar Joyce! Come ora! Alcatroia! Ehi, vai! Scusate Io cuore della tua madre e tu... ...quale taglio di capelli, però! Non mi tocchi ancora, uffio! E' la ultima volta! ...or i'll bring the cops in here so fast! Non sei così dimenticato! Io vorrei sapere di averci bostata! Chloe... ...un giorno si crescerà! Hey! Sei ok? Ehi, fatti! Ehi! Ehi! ...questa è un'occhio di più se fosse un'occhio se fosse un'occhio se fosse un'occhio. ...questa è difficile per credere. Ehm... ...l'acqua uscire la finestra. E' un'occhio di più che possiamo andare a andare a andare a questa piccola. David era un'occhio di bambino a Chloe. Cosa si è un'occhio di bambino a Chloe? Cosa si è un'occhio di bambino a Chloe? ... Si perché l'Adeハ c'è un puntino sulla barra del tornare indietro. Ehi è il punto che ti dice... ...salta. ...herbovedere. I'm sorry, that was my joint. Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know, you're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down. It's a mess. It's not even loaded yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hickhole. Okay. Man, that did not go well for me. If I want to keep my blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody. Even Chloe. I have to think about my own future. Allora, torno indietro. Che f... ma... Torno indietro. Sicuro? Sì. No. Ascolta, devi guardare il tuo mulino, porco. No. Dai, che già c'è la madre che rompe il cazzo. Lo so, però già l'abbiamo trascurata per cinque anni. Per una volta. Sì, ma non è colpa nostra se è diventata una tossica di merda che avevi la gente che spaccia. Che cazzo. Pariamogli il culo per stavolta. Comunque ci ha aiutato anche prima che ci stava menando il tizio. Facciamo che abbiamo saldato il debito. Fine. Adesso sono cazzesuoli. Andiamo nella merda più totale, che bello. In realtà andiamo nella merda sia da una parte che dall'altra. Almeno gli abbiamo parlato il culo alla tizia e ciao. Nel boschetto. Bambi. Sei tu? Con quale texture? Non è questo buono, Sosso? Mi ricorda di quando eravamo figli. Come on, Slowpoke. Hold on. Non dire le lumacche che mi ricordano i studenti di Bloodborne che sono direi tutti i lumacche. Tornando a destra cazzo. Ah, cazzo! Cazzo! Esatto. Eh, dove c'è la tempesta che ci cade il far in testa, lo so io. Lo so. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Vabbè. Eh, vabbè. Vabbè, vabbè. 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 Ha dato arrivato con Kate, avrei dovuto fargli una foto. Vabbè. C'è stato un pochetto? C'è stato un pochetto. C'è stato un pochetto che io li abbia legguto. Mi piacerebbe. Ci sono importanti, oi non li li scopriamo in il suo garage. C'è un pochetto che mi ha scoperto. C'è un pochetto che la verità è lì in i file. C'è sicuramente, ma è bello che tu non hai trovato i file. C'è un pochetto ballistico. C'è un fetichismo total di surveillance. Non so che c'è un pochetto spi-cams in la casa. C'è un pochetto che non lo sapevo. Chloe, la tua casa è sotto la surveillance. C'è un pochetto che si tratta. C'è un pochetto che hai camila da навctho. C'è fatto questa onore in il giardino. C'è stato un pochetto. È un pochetto paranoide. Che prendo il tuo senso a ora. C'è un pochetto che la ignoranza è il sono rilevo. Non è confatto che sono così meno. Tutto che in questa scopte sa rilemo di tutti i nostri. C'è un'arghetto di Nathan? È un'erroba che vendiste a le impietà che accolino con un laxatif. and he dosed me with some drugging his life what I met him in some shithole bar that didn't card me he was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills just tell me what happened Chloe now I was an idiot I thought he was so blazed it would be an easy score you needed money that bad actually yes I owe big time And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up Vabbè, non chiediamo quanto. Ma stuprata? No, forse no. No, 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 no. Ce l'ha un po' con noi. Dai facciamo il trio. La fotografa, la fatta e la scomparsa. Io ho un'idea un po' strampalata. Di questa sua amica che è scomparsa. Attenzione. Abbiamo un ictus. Non siamo tornati nell'incubo. Mi è in testa diventato un blarbo. Siamo nel sogno del cacciatore. Lascia fare che ho la spada P10. Lascia fare. Ma dai buono. Ci sono grandi culi. Sono di livello 90. Dai buono. Ok, ok, ok. Ho bisogno di trovare. Max, riuscire ora. Si can sapete dall'altra parte. Eh, ho capito io. Ma non è che posso per vedere le rocce che mi piace tanto. Occhio. Si, e dopo? Altro? Cosa faccio? Passo per sotto? Dove vado? No, devi avvalgiare il tempo ancora. Appena prima. Ah, è giusto. Un po' di più. Capito, puoi muoverti da anticipo. Sì, sì, sì. C'è un po'. Bambi, vieni qua. Si sta. Stai indicando la via. Ma è tutto un troppo nozzo. Bambi, aiutami. Vabbè, vabbè. Altro? Oktober 11th? Is this Friday? That's only four days away. Oh no. That tornado è headed straight per la città. Chloe, tu sei qui. Sono tornato. Oh my lord, questo è vero, è vero. Oh man, questo è vero. Max, cosa sta succedendo? Tu è totalmente scoperto. Non scoperto. Ho scoperto. Ho avuto un altro visione. La città sarà scoperto da un tornado. Oregon fa circa 5 tornadoes ogni 20 anni. Tu è proprio zoned. No, no, io ho visto. Lo so. Lo so. Mi potrebbero sentirsi l'elettricità in l'air. Come on, prendere un attimo. Ok? Chloe, non sono scoperto. Ma c'è qualcosa che ho bisogno di dire. C'è qualcosa che ho bisogno di dire. C'è qualcosa di pesante. Fai con me, Max. Ho avuto la visione prima in class. Quando mi fuori di là, ho scoperto che potremmo il tempo. Come ho detto, non è scoperto. Ma c'è qualcosa di... Ma c'è qualcosa di... ...d'essere mi? Come si credo che ti salvai in la città? Perremmo il tempo? Sì, sicuramente. Vedi che ti saluto, Chloe. Vedi che ti, in realtà, mati. Mi potrei andare e scoprire il foglio. Ok, vedo che sei un giusto con un grande immaginazione, ma questo non è un animo o un videogame. Ci persone non hanno questi poteri, Max. Non so quello che ho, ma ho lo. E mi ha scoperto. Tu devi riuscire. È stato un giorno di vero. Non lo so. Cosa è questo? Sono come 80 gradi. Come? Un cambiamento climatico. O una strada è venuta. Max, inizia dal principio. Dicami tutto. Pornografiche. Sozzone. Questo è il ruolo occhio nero. Bellissimo. Quindi abbiamo quattro giorni di tempo per salvare la città, mi sa. Cosa è? Ecco. Cosa è il ruolo? Cosa è il ruolo? Cosa è il ruolo? Grazie per la visione Un trofeo Crisalis E questa è la fine Del primo episodio Su 5 ragazzi Io direi di terminare qua il video Anche perchè è vero verrà un pochino Più corto rispetto agli altri Però mi sembra insensato Collegare la fine Di questo episodio con l'inizio Del secondo Direi perchè Per questo episodio è tutto Non vogliamo dire le impressioni Più che altro perchè non vogliamo Che le nostre impressioni Diventino le vostre idee Su questo gioco Volete dire la vostra impressione Mettete un bellissimo commento Visto che non ne vediamo mai uno Almeno sia l'inizio Di qualcuno che ne metta fuori uno Però adesso abbiamo qualcuno che ci segue E abbiamo anche avuto Senza spoiler Com'è che si chiama quel ragazzo Che tu mi dicevi Che mi ha salutato anche E' ricco Si c'è stato Ancora lunga Nel senso ci sono altri 4 episodi Da affrontare Noi abbiamo le nostre idee Diteci le vostre E magari alla fine Di tutta la serie Vi diremo Le nostre impressioni Le nostre idee Eccetera Qualsiasi cosa sia Esatto L'impressione del gioco Consigli per la trasmissione future Ovviamente niente spoiler Sì Non vogliamo spoiler Esatto Non vogliamo spoiler Comunque niente vi vieta di dirci Che giochi volete che portiamo Prossima volta Noi comunque Come avete visto nei video precedenti Abbiamo già detto cosa porteremo Però se c'è qualcos'altro Che volete vedere Basta che ce lo dite Da parte del signor Boss E signor Gosher E' tutto Ci vediamo Al prossimo episodio Di Life is Strange Ciao ragazzi Ciao